ovviamente Nikita perché come ho detto più volte non mi sembra avere al cento per cento nel senso che fuori secondo me un minimo è così ma qui dentro enfatizza molto questo suo personaggio glielo ho detto anche qualche giorno fa quando stavamo parlando ok Nikita forse per l'ultima volta una risposta a Gaele sto pensando a chi ho scelto di nominare sinceramente in questo momento non ho sentito cosa ha detto tra nel mio nome praticamente ha detto che quello che ti ho detto l'altro giorno cioè che secondo me qui dentro tu enfatizzi molto il tuo personaggio che fuori un minimo sei così ma qui dentro mi sembra molto ok quando mi vedrà fuori nei social e leggerà le interviste con il chat in tutti questi anni capirà che forse ho percepito male o sbagliato ok grazie Nikita e andiamo da Luca mostra bene la carta di chi vuoi fuori dalla casa stasera chi vuoi fuori dalla casa ed è la verità è inutile starci a fare tutti e va bene così una domanda al volo a Nikita Nikita ti aspettavi che Luca ti nominasse per caso? Siamo andati oltre quindi apprezzo che non l'abbia fatto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti